Si è reso necessario l'intervento di carabinieri e vigili del fuoco per verificare quanto successo in via Leonardo da Vinci ad Ardesio, nei pressi della Cava, in località Botto Alto, dove massi di dimensioni consistenti si sono staccati scivolando giù per il pendio, finendo sul tetto della Marmi Fornoni, fortunatamente senza conseguenze alle persone. Il sindaco di Ardesio questa mattina ha confermato l'ordinanza di chiusura di via da Vinci, interrotta per circa 200 metri nel tratto che dalle scuole elementari conduce al ponte delle Seghe. Per garantire l'incolumità di pedoni e residenti alle due estremità sono stati posizionati manufatti in cemento che impediscono il transito dei mezzi, fino a quando la zona non sarà rimessa in sicurezza. Le abbondanti piogge delle ultime ore riaccendono la preoccupazione per il rischio idrogeologico che interessa buona parte del territorio dell'Alta Valle Seriana, più volte coinvolta in situazioni di estrema pericolosità.